Dopo 20 anni, il sogno dei fondatori di RV System, Davide Rovesti e Agostino Vertucci, continua. Il 2018 inizierà con l'inaugurazione della nuova sede operativa. Inaugureremo alla grande la nostra sede a febbraio del prossimo anno, ci trasferiremo in via Ruini, vicino a Mediopadana, vicino al casello dell'autostrada, 1500 metri quadri con due bellissime sale conferenze, una terrazza nella quale costruire eventi, una zona ristoro, uffici più larghi, più confortevoli. Tutto questo finalizzato ad ottenere un migliore livello qualitativo della vita al lavoro, che riteniamo sia molto importante. La nuova sede è solo il primo passo. RV System punta all'espansione in Italia e anche all'estero. Sicuramente essere nati in questo territorio, dove c'è questa grandissima densità di aziende, altamente competitivo, ci ha permesso di crescere sia come know-how sia come livello delle soluzioni. Non più di un mese fa eravamo presenti con il nostro stand ad Adipec 2017, la più importante fiera del mondo oil and gas ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, e abbiamo ottenuto un ottimo riscontro per quanto riguarda gli interessi sui nostri prodotti. Prodotti che tra l'altro sono frutto della vostra ricerca e sviluppo, che è parte integrante del vostro lavoro quotidiano. Sono prodotti mirati a quel settore e anche a quello bancario che sono nati da RV. Assolutamente sì, sono prodotti che sono nati principalmente dalla ricerca e sviluppo interna di RV ma con un grandissimo contributo dei nostri clienti in quanto il know-how, la conoscenza degli ambienti in cui questi prodotti e questi software devono funzionare è fondamentale alla fine per ottenere una soluzione che sia realmente efficace e che abbia un importante beneficio per la clientela. L'assessore all'innovazione del comune di Reggio Emilia, Valeria Montanari, ha sottolineato il valore delle esperienze imprenditoriali come quella di RV System che si muovono nei settori più innovativi, sempre più essenziali per aumentare, ha detto, la competitività e l'attrattività di Reggio Emilia. La via Emilia è sempre più digital e in questa direzione vanno orientate le linee strategiche con l'obiettivo di diffondere cultura digitale. Il direttore di un'industria Reggio Emilia, Giovanni Roveda, ha consegnato ai fondatori di RV System una targa per sottolineare l'impegno di 20 anni in un settore così giovane, ha detto Roveda, che evidenzia però opportunità di crescita molto alte sia in Italia che all'estero. Noi ci siamo posti un obiettivo molto ambizioso, quello di raddoppiare il fatturato nei prossimi cinque anni. Come faremo a fare questa crescita? Sicuramente attraverso linee interne, sicuramente creando quelle partnership internazionali che ci permetteranno di conquistare mercati esteri e anche dalla creazione di partnership o operazioni societarie sul territorio nazionale per diventare più capillari, per essere sempre più vicini ai nostri clienti in regioni come il Piemonte, il Veneto e il Lazio. E la conferma, anno dopo anno, di una redditività capace di sostenere gli investimenti e lo sviluppo. L'Ebidda è pari al 17% del fatturato. RV System chiuderà il 2017 con il fatturato attestato a 12 milioni di euro e un aumento del 20% rispetto al 2016 che già si era chiuso con un incremento del 25% sul 2015. Il numero dei collaboratori, che supera ormai le 50 unità, è aumentato del 15% rispetto al 2016. Uno dei fattori di successo più importanti di RV System è la professionalità delle persone che compongono lo staff di RV. La voglia è sempre di fare la cosa nel miglior modo possibile. Noi siamo molto focalizzati e quindi cercare di ottenere l'eccellenza nel focus del nostro business è un'attitudine di tutti i giorni. La professionalità delle nostre persone e le tecnologie scelte hanno proprio permesso di creare questo legame forte con i nostri clienti. Il ventesimo anniversario della RV System è stato il focus di un evento nello spazio Ruote da Sogno di Reggio Emilia, che ha riunito il team RV System, clienti e fornitori. Sicuramente le partnership che ci hanno portato fino ad avere questo successo sono le principali quelle con i clienti e quelle tecnologiche, con i nostri fornitori. Le partnership con i clienti sono nate tanti anni fa, abbiamo stretto relazioni molto forti, seguiamo tuttora i clienti in questa trasformazione digitale e ritengo siano partnership che ci permetterà anche di continuare a crescere nel futuro. Le partnership tecnologiche sono molto importanti perché noi quando scegliamo delle tecnologie non scegliamo solo la tecnologia, l'innovatività della tecnologia, ma noi scegliamo un partner che ha nel suo DNA dei pezzi, la ricerca e sviluppo la fa per noi, la produzione dei prodotti la fa per noi, la logistica la fa per noi e addirittura il prezzo lo decidiamo insieme. Quindi tutto questo percorso è parte del nostro business e quindi non può essere considerato semplicemente un fornitore, ma deve essere considerato assolutamente un partner. Nell'immaginario collettivo aziende come RV, nel settore dove RV opera, nascono nei garage voi? No, in realtà non siamo nati in un garage, ce l'hanno chiesto mille volte, tant'è che alla fine mi sono stancato di puntualizzare che siamo nati in un normalissimo appartamento. Quindi sostanzialmente siamo nati principalmente per metterci alla prova e perché capivamo che nel 97 un grande stravolgimento stava prendendo corpo e quindi abbiamo iniziato proprio con i primi servizi per le società ad aprire la porta di internet alle società emiliane. Seguendo la traccia guida, ovvero la trasformazione digitale delle imprese, hanno portato contributi Alberto Bastianon, Senior Pre-Sales Manager di Dell'AMC, Roberto Giovanni, Senior Distribution Manager di WMWare, Alessio Campoccia, Partner Development Manager di Amazon Web Services, Gian Piero Petrosi, Sales Engineer di Rubrik, e Ugo Pelicani, Senior General Account Executive di Sopos. Il meeting a ruote da sogno è stata l'occasione anche per spegnere 20 candeline su una specialissima cupcake con tanta musica e con il cabaret di Paolo Migone, quello di Zeynig.